signore e signori ben ritrovati nella serie di sopravvivenza pensavi e pensavi che non ci sarei tornato qui e invece si quest'oggi ci dedicheremo ad edoras oddio edoras questo nome lo devo togliere dalla testa perché non si chiama edoras edoras non è in una pianura non è in queste zone che è stata eretta la vera edoras quindi dobbiamo cambiare nome è sbagliato da dire è sbagliato molto molto errato fatto sta ragazzi che mi è venuta in mente una cosa tra un episodio e l'altro come ben sapete da quelle parti quindi dove c'è il villaggio iniziale da dove abbiamo iniziato tutto non c'è acqua cioè nel senso non c'è questo essenzialmente non c'è acqua appunto perché siamo in una zona di montagna in una parte molto molto alta e quindi stavo pensando dato che in quel villaggio non si può costruire una sorta di porto perché non lo facciamo qui a sto punto dato che c'è tutta questa costa molto carina come formata carina anche perché ho dovuto terraformare tra un episodio e l'altro perché c'erano un sacco di errori errori di generazione del mondo tipo buchi del genere come questo che ho coperto da queste parti con la terra tipo degli specie di stagni non so se avete presente quei buchi ecco tipo questo tipo questo c'erano tanti di questi buchi che ho dovuto coprire tipo anche quest'altro guardate che schifo quindi qui come vedete è fatto molto regolare molto bene fatto sta che va bene concentriamoci sul sul porto perché ragazzi voglio fare un bel porto qui ovviamente non credo che riuscirò a finirlo entro questo episodio perché probabilmente sarà bello grande però potremmo fare un principio un inizio di questo porto perché lì proprio ce lo vedo molto bene mi sono già preparato dei blocchi perché di solito lo faccio molto semplice ma che cosa sto dicendo scusatemi mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa importantissima di qui avevo fatto un'altra costruzione oh mio dio io tutto che voglio preparare l'episodio e poi mi dimentico le cose comunque sì ho messo questa costruzione qui non so se ne eravate accorti probabilmente no perché è da tempo che non ci torno qui e quindi niente volevo farvi vedere giusto che qui stavo facendo ancora devo arredare fare anche perché comunque quasi tutte le case devono essere arredate quindi mi ci dedicherò con calma fatto sta che ho notato che sto tizio è entrato qui dentro mentre costruivo e non esce più cioè vorrei capire se magari adesso non si sta muovendo o semplicemente se rimane bloccato perché non si muove più cioè è passato parecchio tempo ed è rimasto qui dentro quindi non so se restano bloccati effettivamente i tizi quando entrano proprio nel calderone però è carino e simpatico ritorniamo un attimo di lì perché volevo spiegarvi come voglio fare i pontili perché inizialmente bisogna fare i pontili giustamente innanzitutto se vedete siamo alti un blocco in più rispetto all'acqua perché un errore che facciamo sempre tutti quanti è quello di costruirlo direttamente a livello base o al massimo cosa più errata possibile costruirlo con i mezzi blocchi che è una cosa sbagliatissima ragazzi perché immaginatevi un pontile costruito tutto con gli slab ok che non ci nascono i zombie eccetera eccetera però se ci volete costruire altro se volete per esempio che so mettere una cassa decorare non potete farlo perché vi metterà praticamente il blocco sopra ed è fastidiosissimo è scomodissimo e quindi una cosa che posso consigliarvi anche perché è pure più bello da vedere è fare un pontile un blocco più in alto rispetto all'acqua tipo così adesso vi faccio subito vedere in questo caso io voglio fare il pontile largo 3 ogni 3 diciamo ci sono questi blocchi di legno che faranno da sostegno ho messo bene il blocco no ho messo proprio sbagliatissimo non so se riuscite a vedere qui in fondo vediamo se ho sbagliato ho sbagliato probabilmente sì rimettiamo ok quindi ogni 3 di lunghezza c'è un pilastro ok poi lo andiamo a collegare togliti tu che non mi fai cliccare bene con la terra in questo caso adesso vi faccio vedere subito che cosa intendo io vedete ogni 3 blocchi mettete i pilastri perché sto facendo ciò perché ogni 3 sapete bene che in minecraft le cose dispari funzionano abbastanza bene ma poi perché qui ci saranno adesso non ce le ho le fence quindi torniamo un attimo di là dormiamo velocemente speriamo che ce l'abbiamo ok abbiamo questo e non abbiamo le fence benissimo perfetto le devo un attimo craftare ottimo perfetto torniamo al volo di lì fence così fence così e cancelletti al centro che come potete vedere non hanno il pilastrino che tocca lo slab e quindi danno un senso di rotondità certo se apri le fence puoi cadere nell'acqua però è un fatto estetico un fatto estetico non ci fate caso ok e quindi niente continuerò a fare questo pontile giusto un altro pochino vedrò se forse ne devo inserire altri e poi comunque voglio fare anche una piccola costruzione qui vicino perché altrimenti solo il pontile così è brutto vedete che comunque c'è distanza dall'acqua dove si cammina ed è anche molto bello da vedere sì sì molto molto meglio molto meglio ok signori questo è il risultato come vedete ne ho fatti altri due di pontili qui giù vabbè non fate caso a quel letto bruttissimo che sta lì fuori però vabbè lo stavo usando per dormire velocemente dato che comunque da queste parti di luci non ce ne sono come potete vedere stavo già iniziando a mettere il path block diciamo il tipo di terreno che fa parte di questa città giusto per dare un tocco scenografico insomma qui intorno perché se non hai ovviamente un minimo di bozza non riesci a capire niente non fate caso a quell'albero lì in fondo è quest'altro che sta qui li stavo facendo crescere velocemente pure per procurarmi il tipo di legno che sto usando di più ovvero lo spruce anche il legno di oak non scherza perché comunque è quello grezzo quindi facilmente si consuma come potete anche notare ho messo questo tipo di ringhiera anche di qui e da quest'altra parte giusto per rendere tutta questa zona un vero e proprio pontile qui a terra ci sono anche blocchi sparsi qua e là di legno e anche di coarse dirt poi ovviamente anche questo tipo di blocco lo stavo piazzando già in modo che abbiamo appunto un pochino di erbetta qui e lì mi sono portato un po di chest e voglio fare pure altre crafting table perché le voglio piazzare qui con anche i cartelli per fare le famosissime casse che ho inventato tra un episodio e l'altro che si fanno quindi in questo modo con anche le chest messe così a caso come vedete viene abbastanza bene il tutto sign un po da tutte le parti perfetto e poi qui in cima ci andrebbe bene una bella wooden pressure plate in modo che copre la parte bruttissima della crafting table in lontananza sembrano casse legate ecco qui intorno metterò tante di queste casse pure per dare un senso di confusione casino perché questa è una zona diciamo portuale e quindi è piena di queste cose messe a caso tra casse eccetera eccetera e poi volevo mettere non so dove ancora una specie di non lo so gru di quelle alte belle stile come quella nella caverna che abbiamo fatto lì in fondo in modo che non lo so raccoglie le cose dalle navi che arrivano da lontano oddio navi barche perché comunque questa è una specie di lago non so se finisce da queste parti mi pare di sì comunque di qua continua quindi ok ci può stare in modo che le nostre barche diciamo che vanno a fare pesca eccetera eccetera tornano qui e posano insomma i vari pesci pescati eccetera eccetera sto dando un po di background velocemente per farvi capire di che cosa stiamo parlando comunque metterò altre di queste casse e farò anche qualche costruzione qui intorno perché ci deve essere una specie di edificio che fa parte non so dei pescherecci vedremo vedremo un po bene 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 signori sono contento che sta prendendo forma aveva bisogno di dettagli e infatti tra una clip e l'altra mi sono messo a fare questo quindi inserire casse da tutte le parti calderoni vari anche qui intorno che danno molto scena e danno pure quel tocco di ferro scuro che ci sta comunque da queste parti e come vedete c'è casino c'è casino c'è bordello a qui ho messo anche delle barchette fatte di walk perché hanno quel colore leggermente più chiaro inizialmente stavo usando quelle di dark walk perché erano più scure però erano appunto troppo scure non mi piacevano e poi dato che non volevo usare le barche di spruce che sono praticamente dello stesso colore dello spruce che abbiamo qui per cambiare un po' ho usato quelle di walk che come vedete la loro scena la fanno dai come stavate osservando qui stavo iniziando a fare questa struttura ma ci arriviamo dopo ma passiamo di qui perché ho fatto diciamo una sorta di gru che essenzialmente non serve a nulla però scenograficamente dà molto quel tocco di porto che fa la sua porca figura e ci sta ci sta molto molto bene come vedete la struttura è completamente inventata ho messo giù un po' di slab trapdoors e poi questa sorta di corda appesa a questo robo che sostiene il tutto che è praticamente uguale alla roba che avevamo fatto lì nella caverna quindi diciamo che ho preso un po' spunto da quel tipo di gru però un pochino diversa leggermente diversa per non farla praticamente uguale all'altra infatti questa si sviluppa verso l'alto come potete vedere ed è molto bella è semplice alla fine non ci vuole nulla per farla ho messo giù qualche blocco di oak spruce queste sono tutte slab alla fine se vedete che si sviluppano verso l'alto e basta niente di eccezionale questo qualche blocco in più qui per rendere la struttura ben salda tra l'altro questo pilastro è anche al centro tra questi due pilastri quindi geometricamente stiamo proprio a posto la banchina è un po' più larga infatti questa è la banchina che avete visto prima però l'ho allargata in questo punto e l'ho allungata un pochino di qui per non farla finire stesso qui che era che non mi piaceva come finiva insomma come vedete ho messo anche delle vines lì per dare quel tocco di umidità in più peccato per l'acqua che tiene questo colore che non mi piace tanto devo essere sincero magari con i prossimi aggiornamenti con i vari tipi di acqua diversi e magari con anche le alghe che danno più scenografia sicuramente ci sarà quel tocco più carino come vedete qui stavo costruendo appunto la struttura come stavate vedendo e ne voglio fare altre che fanno un po' da contorno a questo porto perché non voglio isolarlo ecco voglio che si attacchi bene alle strutture al villaggio e a tutto poi stavo notando un'altra cosa che qui effettivamente mancano delle barche non questo tipo di barche qui che sono proprio piccole piccole io intendo barche vere e proprie barche e sinceramente non so se costruirne una alla fine la vorrei fare piccola non vorrei fare qualcosa di troppo esagerato anche perché comunque qui si tratta di un lago come dicevamo una barchetta tipo peschereccio con anche una vela bella bianca carina e sistemata darebbe quel tocco ancora più medievale che ci sarebbe molto bene qui intorno e poi darebbe senso a questa struttura qui fatto sta che ragazzi direi che mi metto a costruire la barca a questo punto la barca e poi se riesco continuo un pochino questa struttura qui perché non è venuta questa capata di fare la barca voglio fare la barca qui in mezzo secondo me darebbe proprio un tocco di classe signori mi sono preso un bel po di tempo prima di registrare quest'ultima clip un bel po di tempo che ho impiegato per fare particolari per fare modifiche e altro queste bottiglie non mi servono perché tanto me le danno le streghe alla mob farm quindi le sto usando per rendere i calderoni un pochino più carini dato che comunque l'acqua è proprio brutta da vedere fino a soprattutto quindi questo da più non lo so piace di più così qui l'ho tolto ok anche da queste altre parti se non sbaglio si tipo qui qui non c'è proprio quasi quasi gliela metto o non gliela metto non gliela metto tanto non c'è bisogno di mettere acqua da tutte le parti comunque come vedete questa struttura l'ho modificata ho inserito pietra sostanzialmente anche un camino di qui non so se già sentite anche il fuoco perché l'ho fatto anche un po l'interno di questa casa poi ho messo meloni e zucche precisamente angurie perché i meloni sono altro poi ho messo questa finestrella qui che stacca un po perché questo tetto era troppo piatto non mi piaceva come stava venendo e quindi ho voluto staccare un po mettendo una finestrella che non è niente male di cui invece ho fatto un'altra entrata sempre per staccare perché comunque sennò rende il tutto troppo piatto appunto cosa che per esempio abbiamo in alcune case di qui però vabbè bisognerà modificare anche quelle sicuramente come vedete ho messo anche alcuni note block quindi questo qui altri da queste parti anche per dare un tocco di colore un più siccome texture non mi piace tanto perché il note block alla fine è un blocco che non serve a niente cioè se ti piace fare musica e altro ok lo usi però alla fine è un blocco che non ti serve a nulla potrebbero cambiare magari le texture di questo sarebbe più carino anche da usare esteticamente comunque quest'altra struttura come vedete è diversa da tutte le altre l'ho voluta fare appunto diversa per cambiare un po tutte le strutture alla fine sono molto simili tra di loro se avete notato e quindi ho voluto insomma fare un tetto un pochino più piatto che tra l'altro questo tetto mi ha permesso di fare un secondo piano come potete vedere dall'interno di questa casa che ancora devo fare ho solamente messo il pavimento e poi delle scale qui che portano appunto al secondo piano dove c'è anche un piccolo balconcino vedete si già state vedendo qualcosa lì in fondo adesso ci arriviamo e niente quindi deve essere arredata però almeno questo tipo di tetto piatto ci dà la possibilità di avere un secondo piano cosa che non possiamo avere in queste case qui perché per esempio se entro vi faccio vedere che il tetto è molto stretto perché per fare questo tetto qui appunto bisogna stringere e quindi stringendo non si ha più spazio come vedete l'interno è molto semplice ho messo il camino qui che fa questa curvatura che sale verso l'alto poi fuori un letto a castello qui con delle scale dove si può accedere appunto al secondo letto un pochino incastrato con il tetto ma non ci interessa una sorta di menzoletta qui sopra e tiene delle casse e robe varie giusto per dare un po di scena e per riempire anche questo punto che non sapevo come appunto riempire e scusate il gioco di parole una cassa qui un tavolino semplicissimo con delle sedie e basta sostanzialmente poi vabbè sì delle fornaci qui però semplicissima molto molto ristretta e piccola comunque veniamo noi lì sì lì ho fatto una specie di barchetta una specie di peschereccio di cui vi parlavo nella scorsa clip per renderla più dettagliata ho dovuto usare trapdoor così a caso che non c'entrano nulla ho dovuto mixare pure due colori lo spruce e l'hawk quello lavorato quindi come potete vedere sotto è più scura e sopra è più chiara l'ho fatto in questo modo pure perché se la facevo tutta di york veniva troppo chiara invece così da non lo so un po anche l'effetto di bagnato perché tipo la parte di sotto dato che tocca sempre l'acqua può dare un effetto più scuro perché appunto è consumato dall'acqua eccetera eccetera quindi può funzionare questa cosa come vedete le vele non sono spiegate quindi sono delle vele appunto piegate penso si dica così e niente quindi sono praticamente arrotolate verso l'alto e quindi appunto non sono aperte perché è ferma sostanzialmente questo vascello questa barca non so nemmeno come chiamare ferma è bloccata perché appunto sta scaricando sta scaricando tutta la merce a terra essenzialmente saliamoci su anche per vederla meglio nel dettaglio no da qui non ci arriverò mai devo fare un po di parkour per arrivarci tipo da qui se non erro esatto da qui basta aprire questa trapdoor e poi saltarci sopra esatto ed ecco qui come vedete qui ci sono degli slab se no veniva troppo profonda la cosa tipo se rompo questo slab che tra l'altro sono pure pieno fammi togliere questa bottiglia che non mi serve a nulla fammi prendere lo slab perfetto ho dovuto mettere degli slab perché se no veniva troppo bassa e non lo so non mi piaceva non mi piaceva proprio come si affacciava il player alla barca quindi così ha più senso vedete anche a livello di costruzione ci sta con la grandezza del player quindi funziona funziona molto molto bene spero vi piaccia perché ci ho messo un po di tempo per farmela piacere questa barca e devo essere sincero perché più piccola è meno dettagli puoi mettere che cosa c'è più da dire ah sì questo punto qui stavo facendo un contorno a questa distesa di grano doveva essere divisa perché è molto molto vicino al porto sta usando un po di foglie di questo albero qui che sono delle foglie un pochino più spente come colore adesso vorrei farvi vedere la differenza con l'albero di oak magari ecco qui esatto esatto proprio qui vedete il colore delle foglie di oak è più acceso quindi funziona meglio il colore di quest'albero qui quindi l'albero di birch e sta venendo abbastanza bene non mi dispiace proprio vedere questo muro con frasche e robe varie che farà tutto da contorno come vedete ancora devo finirlo perché appunto non so dove far arrivare tutta questa distesa di grano di certo non la posso lasciare così devo vedere un pochino come fare però adesso mi piace mi piace fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate per il resto ragazzi io penso che mi fermo qui spero vi piaccia il tutto fatemi sapere qualcosa posso inserire seguitemi su telegram perché lì vi aggiorno su tante cose non chiedo like non chiedo nulla come dico sempre ma attivate la campanellina così potete sapere ogni volta quando esce un video mio perché non ho delle giornate precise quindi niente ciao a tutti ragazzi